La prima volta che abbiamo capito che era portato per il nuoto è quando ha vinto i primi campionati regionali a Torino e faceva quinta elementare. Il suo primo allenatore ha visto che era il più forte di tutti a Rana, dava mezza vasca a tutti senza che nessuno gli avesse mai insegnato nulla. I punti di forza di Federico sono sicuramente un'ottima coordinazione tra gambe e braccia della Rana. Quando viene qui in palestra è sempre motivato e concentrato. Io mi definisco pazzo come nuotatore poiché a volte riesco a raggiungere prestazioni che non penso siano mie. Federico lo scorso anno ha deciso di trasferirsi in Inghilterra, a Plymouth, in Cornovaglia, dove segue un programma di studio e un programma di nuoto. Molto faticoso, molto duro, però ce l'ha fatta e quindi siamo molto orgogliosi di lui. Un aggettivo per descrivere Fede è sicuramente anche troppo simpatico. Determinato, pazzo nel senso buono della parola. Quando mi hanno comunicato che avrei partecipato ad ASI, ero molto contento perché l'ho presa come un'esperienza per crescere. Ciao, sono Federico Polcio, sono pronto per Arena Swim Your Best. I'm ready, and you?